il leader pd condivide le parole di sanchez e scoppia la polemica meloni è ridicolo con quello che sta succedendo con l'invasione russa cosa sarebbe dell'europa oggi se salvini le pene a bascal fossero a capo dei governi twitter ricoletta il segretario pd fa a sua la domanda che pone il premier spagnolo pedro sanchez accusando al congresso dei deputati di madrid il leader del partito sovranista vox santiago abascal di fare il gioco del presidente russo vladimir putin se in europa governassero i populisti e quindi in italia salvini questa congiunzione di ultradestra dice il premier socialista spagnolo sarebbe la morte dell'europa perché rappresentano l'intolleranza e la mancanza di dialogo quello che ha fatto putin è sostenere salvini e le pen perché vuole governi autoritari in europa ma questo non succederà né spagna né europa lo permetteranno l'europa prevarrà dice il premier spagnolo letta condivide l'attacco frontale al leader della lega con cui condivide l'appartenenza alla medesima maggioranza di governo che proprio nell'emergenza della guerra in europa si è ritrovata unita come mai prima è infatti al netto delle schermaglie fisiologiche tra partiti agli antipodi nelle ultime settimane non si sono registrate polemiche e attacchi virulenti l'uscita di letta è insomma una novità rispetto al clima di unità nazionale da crisi bellica è infatti richiama a questo principio il ministro degli esteri luigi di maio chiamato a commentare la querelle le parole di sanchez contro salvini questo è il momento dell'unità nazionale noi dobbiamo essere uniti stiamo andando ad affrontare una sfida che l europa non vede dalla seconda guerra mondiale restiamo uniti come paese andiamo avanti e cerchiamo di portare a casa la pace spiega il ministro Grazie a tutti